signori cari e belli come la va? sfida numero 6 dobbiamo cercare di scalare la classifica non ci spero tanto però io ci proverò a darvi una soluzione un aiuto magari per chi non riesce a completare questa sfida e quindi like iscrizione al canale descrizione con tutti i social mi raccomando che sono importanti iscrivetevi con questo tastino seguiteci in live anche su twitch mi raccomando codcreatoraplo e andiamo in gioco a vedere questa sfida numero 6 cartellino facile bisogna essere velocissimi per questa volta bisogna essere velocissimi abbiamo 50.000 gemme in palio 30.000 gemme 15.000 per le varie posizioni e cosa dobbiamo combinare su questa sfida? abbiamo un bel labirinto abbiamo a disposizione il king con la finice un pecca due mastini lavici il cartellino e una velocità il segreto signori qual è? c'è un'apertura di qua c'è un'apertura di qua dobbiamo far morire il king preserviamo il pecca e facciamo morire il king spruttiamo i mastini lavici per far fuori le torri infernali e quella è la soluzione più semplice questa è la soluzione che ho trovato io avanzando circa un minuto bene o male altre soluzioni chiaramente ce ne saranno commentate anche voi fate sapere un po' se riuscite a racimolare un po' di più il king ha i baffi e il terremoto questo è quello che posso dirvi in più ok? allora adesso vi mostro la mia soluzione king da questa parte pecca da quest'altra ok? pecca dall'apertura king dall'altra ero stati un po' lenti all'ingresso ma fa niente adesso il nostro compito è preservare la vita del pecca e invece lasciar morire il king quindi noi utilizzeremo i cartellini gialli quando la torre infernale punterà il nostro pecca mentre il king non lo caghiamo neanche di striscio non ci interessa del king cartellino abbiamo quasi fatto un secondino di ritardo ma fa niente aspettiamo che le torri qua delle fuoche artificiali vanno giù perché così potremo utilizzare il nostro mastino lavico intanto utilizziamo un'altra un altro cartellino giallo il king ormai è in zona di frittura perfetto lo lasciamo friggere a questo punto possiamo usare i nostri mastini uno leggermente laterale di qua uno leggermente laterale di là abbiamo la fenice che si sta occupando delle varie zone pronti a sfruttare la velocità torre infernale che è andata giù torre infernale che è andata giù perfetto direi no qua lasciamo fare i nostri lavapops che riescono anche a gestire la zona diamo velocità a pecca fenice per raggiungere l'altro angolino quanto avanziamo stavolta siamo lì al limite un minuto circa un minuto si può fare di meglio possiamo giustare i cartellini gialli per cercare di essere più veloci durante il labirinto signori questo è il mio suggerimento su come completare questa sfida sicuramente voi troverete l'inghippo per non far girare troppo le truppe per farle andare nel modo giusto avanzeranno due minuti come minimo sono curioso di vedere i tempi signori voi lasciatemi un bel like per favore iscrivetevi al canale seguiteci in live su Twitch descrizione con tutti i nostri social road creator upload tra un paio di giorni ci vediamo per la prossima sfida bye bye ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.